C'è stato un periodo in cui era possibile, diventava desiderabile e questo faceva sembrare giusto, avere tutto a 40 km da casa, università, alta velocità, aeroporti, eccetera, eccetera, eccetera. E oggi non è più possibile, magari continua a essere desiderabile, perché è chiaro che forse ci fa capire che non è così giusto, perché ad esempio, per fare alcuni esempi, avere un aeroporto, cioè avere in un arco di 50 km due aeroporti... Che è un fatto anche che interessa questa zona, mi pare. Beh, ma interessa, adesso io pensavo, devo dire, a Torino e Cuneo, soprattutto perché sono aeroporti, ma pensa un hub internazionale, o dovrebbe esserlo, insomma, però in ogni caso bisogna che ci siano delle relazioni fra questi aeroporti, cioè bisogna che funzioni come un sistema aeroportuale, perché nell'arco di un centinaio di chilometri, se noi pensiamo alle grandi aree metropolitane d'Europa, hanno tutte, tre o quattro aeroporti, in un arco di un centinaio di chilometri, collegati, funzionali, con delle vocazioni più specifiche, chi fa il city line, insomma, adesso non voglio insegnare i gatti a rampicare, però questo secondo me il senso. L'università ha senso avere, cioè l'università, l'università studiorum, evoca la complessità del mondo dell'apprendere, quindi quanto più anche il ragazzo si sposta, conosce persone diverse, tanto meglio è, se no è come andare in un liceo. E questa è una cosa, un errore che io per primo, perché anch'io ho provato... Faceva ricercatore, anche lei? Non mi pare che faceva ricercatore, ma anche quando faceva ricercatore, anch'io ho visto bene il decentramento universitario, in realtà in parte diventa una forma di licealizzazione dell'università che non so quanto sia utile dal punto di vista della formazione e della della preparazione vera di giovani. Se uno mi licenzia per quello in cui io credo, per un'attitudine, che ne so, sessuale, oppure perché faccio parte di un sindacato che non piace al padrone, è giusto che io possa andare da un giudice e essere reintegrato. Questa è la sostanza. L'idea che si definiscono alcuni ambiti in cui l'entico è obbligatorio, i diritti civili e la discriminazione non sono sanabili con una multa. Sì, adesso poi il termine multa in realtà l'ha messo il giornalista, ma perché poi... Ma quelle sbagliate. Semplificate. No, 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 sbagliate. Quasi. Semplificate. Semplificate. No, ma è molto... sì, esattamente così. Cioè, dico, ci sono alcuni diritti individuali che io considero diritti che non sono mercificabili, no? Ma sono appunto pochi diritti che vanno definiti. Allora, nei casi in cui il licenziamento, il giudice ritenga sia... diciamo, riconducibile direttamente a quella tipologia, io credo che lì la reintegra debba scappare. Tutti gli altri casi, invece, io credo sia giusto andare su una forma di risarcimento gestito da commissioni arbitrali e non dalla magistratura. Però rovescerei la cosa, direi. Farei la casistica dei casi in cui scatta la reintegra e su tutto il resto. Poi io ho anche aggiunto, facciamo una riga, diciamo che questo vale per chi viene assunto da quel momento in poi, perché è anche giusto, secondo me, e infine, se vogliamo, possiamo... questo ovviamente nella logica del contratto a tutele crescenti, che è quello stato detto. Poi però, secondo me, il problema... e questo è la parte che, nella mia proposta, serve per tentare di ridefinire la simbologia dell'articolo 18, perché poi stiamo parlando di una cosa, ripeto, che in termini pratici tutti conveniamo, tutto, è molto circoscritto. Però ha un valore simbolico e quindi, come tale, non si può evitare di affrontarlo. Il punto più importante, però, io permetto di dire, dal punto di vista proprio della contrattualistica, sarà quello di, io penso questo, ragionare sul fatto che sempre di più io vedo utile avere un contratto di tipo generale, normativo, solo per alcune linee definite a livello nazionale per tutta l'industria e non più per comparti merceologici che ormai tra l'altro hanno sempre meno senso. E poi andare invece a dei contratti che siano di gruppo, di comparto, che sono poi quelli che si misurano sul mercato globale e ognuno delle quali ha dinamiche diverse dall'altro. Ed è lì che diventa fondamentale il ruolo delle parti sociali. Cioè, se vogliamo provare a sperimentare il modello tedesco, tra virgolette, lo sperimenti in quella logica lì, secondo me. Il simbolo, ridiscreviamolo, ma in modo che non ci sia una parte umiliata. perché se di fronte al fatto che vale che una possa essere, dico una ragazza per dire un ragazzo, possa essere preso e licenziato perché magari il datore di lavoro gli ha fatto dell'avance e quella si è ribellata e viene licenziata con la scusa che hai perso la commessa, questa cosa qui non è accettabile. È ragionevole, non è di sinistra. È ragionevole, non so se è di sinistra. Ma è ragionevole. Però in tutto questo, in questa dialettica che lei invoca di comune responsabilità da una parte e dall'altra, c'è un elemento personale in chi deve affrontare questa dialettica che può farlo deviare? Mi spiego meglio. L'atteggiamento del Presidente del Consiglio. Così, tu non mi fai paura, io me ne frego. Se magari si ammorbidisse un po' sarebbe meglio secondo lei? Sa, questo è un paese dove, come dire, bisogna, c'è talmente tanta polvere accumulata che bisogna fare sbattere molto per farla sollevare. Poi per carità, ognuno ha i suoi toni, però secondo me, guardi, è una cosa che io a volte mi sono chiesto ragionando su me stesso, cioè se in questo paese per cambiare bisogna avere coraggio di tirare tante pietre in piccionaia e poi magari dopo si recuperano i pezzi. Infatti ho visto che Renzi ha dichiarato, parliamo, discutiamo, riferita alla discussione. E poi però decide, perché poi il problema è che diciamo il parliamo, discutiamo, confrontiamoci, non può essersi sinonimo del rinviamo. Per questo è l'italian style, cioè dove confrontiamo, tutto giusto, ma in Italia spesso viene tradotto rinviamo. Invece giustamente Renzi dice discutiamo, eccetera, però poi decidiamo. E io questo sono totalmente d'accordo. Infatti io nella mia intervista stamattina, senza nessuna pretesa, ho cercato di mettere lì qualche cosa che aiuti a trovare una... se poi non si trova però si decida, è per me la decisione che si va avanti sulla linea di riforma dell'articolo 18. Ci sarà una ragione però, e qui è il punto sul quale io come persona che ha responsabilità pubbliche mi interrogo, ci sarà un motivo se questi vanno non alle Cayman o dove diavolo ci sono, ma vanno ad Amsterdam. E vogliamo... perché una delle ragioni per cui mi dicono la sede legale ad Amsterdam, non so se è vero, è che ad Amsterdam c'è una cosa che finalmente sembra vogliamo copiare anche noi, cioè il cosiddetto voto plurimo delle quote azionarie. Cioè a dire, cosa intelligente, che chi ha una quota di un'industria, vota in proporzione non solo alla dimensione della quota ma al tempo da cui la possiede. Perché la logica qual è? Premiare l'investitore industriale rispetto all'investitore finanziario, cioè quello il mordi e fuggi che compra e poi vende per guadagnarci rispetto a quello. Allora mi dicono che questa è la ragione per cui senza investire di più con questo sistema del voto multiplo puoi continuare a comandare l'azienda. Mi dicono che vorrebbero introdurlo anche nel nostro paese, ma forse con qualche ritardo, però meglio tardi che mai. Noi abbiamo bisogno, ma ne parlavo proprio oggi, noi abbiamo paradossalmente più bisogno di territorio che non di funzioni ospedaliere specifiche, perché diagnosi e terapia con le nuove tecnologie, con i nuovi farmaci, per fortuna sono sempre più circoscrivibili, non sono più come un tempo che avevi bisogno di 15 giorni di dirigente ospedaliera per fare una certa terapia. Viceversa, quello che hai bisogno è di una preparazione e quindi di un percorso soprattutto di medici di base che siano in grado di seguire e poi forse, dico in alcune circostanze, hai bisogno di una fase post-acuzie dove chi ne ha bisogno sia seguito ma a costi diversi, perché lei saprà, voi saprete che fra un posto letto in medicina generale e un posto letto in una residenza sanitaria a parità di cure, cioè controllo che prendi la pillolina azzurra giusta e non quella rossa, c'è una differenza da 1 a 7, 8, da 100, 110 a 700, 800 euro al giorno. Sono quelle spese del sistema sanitario. Però questo è un problema anche di qualità del servizio sanitario. Io dico, adesso noi stiamo lavorando, tra l'altro Novara che non è distante da qui, ha incorso l'iter per la città della salute, per il nuovo ospedale, per l'iter nazionale per verificare la fattibilità del progetto, un fidanzamento di cento e qualche milioni di euro. Noi stiamo ragionando per riprendere le file della città della salute di Torino. Nel momento in cui si fanno degli ospedali oggi, dobbiamo pensare a cosa sarà la tecnologia sanitaria fra 15 anni, perché se no si rischiano di fare delle cattedrale nel deserto. Lei è alle prese con un'inchiesta, non le è direttamente. Alcuni assessori della sua aggiunta con tre assessori, mi sa, con un'inchiesta della Procura. Rispetto a quello che accadrà, il suo atteggiamento quale sarà? Rispetto ai passi? Guardi, sullo specifico io non le rispondo, ma per una ragione molto precisa, proprio perché è in corso un lavoro di giudizio. Siamo di fronte al fatto che la Procura è andata dopo aver disposto l'archiviazione, è tornata in udienza e ha reiterato e motivato la richiesta di archiviazione. Dato che siamo nel pieno di una valutazione che sta facendo il gruppo, qualunque cosa dica io può essere letta come una volontà di interferire sull'autonomia della magistratura. Quindi io le dico, ho abbastanza chiaro cosa fare, e lo so, però lo ho spiegato perché lo dirò quando ci saranno un atto su cui pronunciarsi. Questo per la vicenda specifica. Per la vicenda in generale io le posso dire una cosa, soprattutto nei reati che riguardano la pubblica amministrazione. Io ripeto, credo che occorra distinguere la specificità, come si può dire, bisogna guardare la caratteristica del reato e considerare che non c'è solo la specifica giuridizionale che riguarda la norma violata l'ipotesi di reato, ma ci sono fatti di opportunità che per la politica sono importanti. In una certa fase può essere non opportuno che una persona che è... Io per esempio se non fossi stato archiviato da una richiesta, da un'indagine sul presunto abuso d'ufficio che poi è stato archiviato per una vicenda di quando ero signor di Torino, ma lo sapevano tutti, non mi sarei certamente presentato alle elezioni. Ma perché? Perché soprattutto in quel momento lo ritenevo che era difficile sostenere una candidatura con un reato. Però in una situazione in cui la giunta era caduta su una questione di tipo completamente diverso, ma comunque che aveva a che fare con un giudizio della magistratura. Quindi io dico, bisogna distinguere le due cose. In linea di massima, secondo me, è giusto che aspettare i giudizi dei giudizi, perché io credo che questo sia il minimo, salvo le valutazioni di opportunità politiche. Va bene, mi ha risposto non rispondendomi, ma insomma... Che valgono che salvo le valutazioni di opportunità politiche che dipendono anche dal tipo di reato. Esatto. Allora prova a farla rispondere indirettamente. Ha fatto bene Bonaccini a non lasciare la corsa? Ha fatto male a Richetti a rimanere lì in corsa? Parliamo dell'Emilia Romagna? Ma io dico che ha fatto bene Bonaccini... Ok, mi ha risposto allora. Perfetto. Io credo che il problema delle regioni sia il seguente. Cioè che le regioni sono implose sotto il peso di inchieste, da fiorito in poi, che non a caso sono venute fuori quando, dopo che l'istituto regionale aveva perso, nella sostanza, aveva trasfigurato il ruolo originale, tradito. Che era quello di essere degli enti di legislazione di programmazione intermedia su alcune materie e non di essere dei supercomuni che gestiscono le pratiche delle varie associazioni, dei vari gruppi e delle varie cose. Perché è evidente che una logica di questo tipo ti ha portato, come passaggio successivo, ad aprire dei varchi, e lì sì che diventa dirimente la qualità personale, aprire però dei varchi a chi, come dire, usa la politica per altri scopi, anche solo per la propria carriera e la usa in modo spregiudicato. Grazie